oh mio dio ecco questo era il verso del mio portachiavi a forma di porco è proprio lui voglio parlarvi di un libro aspettate mi piace una posizione comoda un libro che ho appena finito di leggere giusto ieri si chiama ninna nanna per piccoli criminali di hetero nil autrice canadese la storia è la storia di baby questa ragazza 13enne americana ammessa abbastanza male padre tossico madre morta ma in realtà con ogni sfiga che le capita lei riesce a immaginare comunque ancora con la fantasia dei bambini riesce a inventare delle favole cose più positive di quelle che le stanno capitando a un certo punto c'è questo pappone che la circuisce la tenta di inserirla appunto in un giro di prostituzione riuscendoci può venire nel giro dell'eroina però lei poi troverà la forza di riscattarsi è scritto bene coinvolgente non è triste anche se il tema può sembrare abbastanza deprimente io lo consiglio vivamente è